Assembramenti al portello sulla scalinata già molte ore prima del ritorno in zona gialla. Venerdì poco prima dell'ora di cena, l'intervento di polizia e carabinieri per far rispettare le distanze e far reindossare la mascherina. Da lunedì 26 il sindaco ha annunciato il potenziamento dei controlli dei vigili, ma ha richiamato tutti al rispetto delle norme e degli altri. Sono molto preoccupato per quanto riguarda gli assembramenti che ho visto sabato, perché bisogna capire veramente, non è un problema di ragazzi o di adulti, bisogna stare attenti. Non è un libero a tutti questo, non è un libero a tutti. Se torniamo indietro, siamo morti stavolta, non voglio nemmeno pensare. Per cui, al di là dell'ordinario o qualsiasi altra cosa a livello di disposizione, ognuno deve avere un testo sulle spalle e stare attento. E dopo è inutile dare colpa agli altri, bisogna, ognuno deve fare il suo dovere. Io sono perfettamente d'accordo con Draghi e col premio per quanto riguarda l'apertura graduale. Bisogna riprendere. Penso che i musei, le mostre sono uno dei posti più tranquilli e sicuri.